musica 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 e ben ragazzi come mai siamo tra le mie sui video allora oggi siamo su un gioco della cartoon network si chiama guardia capretta un gioco della cartoon network che mi ha non lo so vabbè c'è stato un commento sperduto tra i miei video che ci ha scritto riportate steven universe quindi io ho deciso di fare steven universe per la prima la prima volta la semen è coinvolto in una missione molto pericolosa salvare la sua capretta che faccia c'ha? vabbè allora solo steven può salvare steven junior dal tempio sulla montagna pericolante vabbè allora allora a e d ah che fa? io uso la freccia ok userò le frecce prendi la mela d'oro a questi investire sono uno stupido ah ho capito quelle la sono le gemme ah no no ah ah aiuto si 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 ok ho capito la tecnologia del livello la da 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 oddio dai no ah ci devo andare sopra ah sono stupido la me l'ha presa dai 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 si 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 leggenda fatto una cosa leggendaria madonna riga che cosa fa anche sì come ragazzi che ragazzi boom 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 si no ho presa la roba mamma mia ragazza mi ha regalato il doppio salto ok sì sì genio mamma mia questo suo doppio salto ma sono tutte e tre stelle lo finiamo adesso il gioco il livello ma quanto sono forte mamma mia 4 minuti giusto questo livello adesso questo qui devo averlo capito poco poi il doppio salto se non mi fai il doppio salto allora dov'è l'altra? ah è vero sono nascostante ok 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 e zompo fai il doppio zompo ok qui c'è nascosta aiuto si la 1 aiuto no ok allora adesso dovrebbe tornare sì 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 ok mamma mia sì mamma mia rega quanto sono forte allora adesso che studio un attimo il livello aspetta Non lo sono studiato male Tranquilli Non sono problemi tecnici Allora Se lo finiamo in questo episodio Raga Non lo finiremo Allora Se lo finiamo in un episodio Sono più contento del mondo Sei il ragazzo più felice del pianeta Abbiamo preso la mela Allora Ah c'è il tempo Quelli blocchi la c'hanno il tempo Vado corri 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 Ah Mi sono accorto ora che c'hanno il tempo Ottimo Si tutto calcolato Era ragazzi tranquilli Mi ho fatti tutti Ma ogni cosa ho fatto tre Allora Dai Da questi blocchi strani Ah presa Tutto preso Possiamo scendere Quanti livelli mi mancano Aspettate Oh Cliccato Riprovo Riprovo Mamma mia Bene Ottimo Mi sa che non lo finiremo In questo episodio Come sono macchina Non lo so Oh rega Sto facendo tutto a caso E poi faccio pure i punti Ok Mi pare troppo alto Si Ok Ok No Non si può vivere così La 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 Io sono un ragazzo normale come tutti Perché non ci riesco Banco bambino di trent'anni Ci riuscirà bene a fare sta roba data 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 acceniamo così così batte sì sì mamma mia non ci credo cosa ha fatto questo coso cosa mi dava il doppio salto che bello che bello morire mamma mia ragazzi può tutti i minuti di registrazione mamma mia allora no no tre gemmeo e sono stupido facciamo così poi così poi così poi così poi questo salto poi doppio salto sì doppio salto sì diciamo così ragazzi è infattibile questa cosa come si potrebbe fare ha capito no sì sì mamma mia pure sbagliato po n o proprio rigamo n o ma è infattibile un livello così vabbè già che ci stiamo riuscendo grazie allora adesso così così no sì 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 allora altri due livelli e concludo l'episodio e poi ragazzi mi sono accorto che a parte i tagli io faccio i video cortissimi quindi sto cercando di registrare il più possibile e farvi divertire ovviamente dov'è la capra dov'è la capra qua davanti perché sono stupido sì 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 io sono stupido allora allora come si fa allora ho capito basta me lo levante allora facciamo così ragazzi se non quello che l'episodio fate un commento mi piace iscrivetevi e ciao 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 ciao